segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te casa in questo tra l'altro impossibile di fatto chiaro trasferimento è un'operazione chiamiamola con i giusti nomi perché anche qui il diritto dà i nomi alle cose è pulizia etnica ed è un crimine contro l'umanità e non mi interrompami scusi ora perché penso di stare usando le parole in modo molto cauto non sono una di quelle che utilizza parole a sproposito e in questi giorni stiamo vedendo accuse di ogni genere io sto utilizzando delle categorie di diritto assolutamente fondate su strumenti internazionali che sono diritto poggente che non trovano eccezioni in tempo di guerra i civili non è questione di spostarsi è questione di quello che sta facendo l'esercito internazionali allora facciamo così e poi mi taccio professoressa facciamo così allora conclude Chantal ma facciamo così poi Parenza e poi sì